Rossella sta ricevendo delle molestie da parte del dottor Fusco, il suo primario. E stiamo vedendo una Rossella veramente in grossissima difficoltà, sembra che non riesca a reagire a tutto quello che le sta capitando. Tempo fa abbiamo visto la prima volta in cui il dottor Fusco si è preso delle libertà con Rossella. E questo dopo che lui è intervenuto durante un litigio proprio tra Rossella e Riccardo. E in quell'occasione il dottor Fusco ha preso le difese, ha dato ragione a Rossella e dopo si è anche complimentato con lei, dicendole complimenti per la sua decisione, il suo carattere. E non è una cosa da tutte, specialmente da una specializzanda giovane come lei, e quindi complimenti perché l'ho vista che ha difeso spadatratta le sue idee e le sue opinioni. E fatto sta che dopo queste parole il dottor Fusco ha messo la sua mano su un braccio di Rossella. E ovviamente questa cosa ha spiazzato Rossella stessa così come ha spiazzato i telespettatori. Fatto sta che poi abbiamo visto che ci sono stati degli altri episodi in cui il dottor Fusco ha avuto degli atteggiamenti poco professionali, quando ad esempio ha detto a Rossella ma dove sono finiti i suoi sorrisi? E poi le ha fatto anche una carezza dicendole ora però mi tiri fuori uno dei suoi sorrisi che è della serie, insomma io non voglio vederla così triste e pensierosa. E anche questa cosa, insomma, ha veramente fatto discutere moltissimo i fan di un post al sole. In molti si chiedono ma perché Rossella non reagisce, non si allontana da lui, non dice a qualcuno quello che le sta capitando e molto probabilmente per paura. Forse lei è talmente impaurita da questa situazione che non ha il coraggio nemmeno di raccontare quello che le sta accadendo. Fatto sta che venerdì abbiamo visto che Rossella si è ritrovata a lavorare con il dottor Fusco, i due erano nell'ufficio proprio del primario da soli e anche questa cosa ovviamente ritrovarsi a lavorare con lui da sola dopo quello che è successo, insomma, sarebbe meglio evitare situazioni del genere. Fatto sta che lei comunque, Rossella, ha accettato di lavorare proprio col primario ad un progetto molto importante e quindi in maniera inevitabile si trova a dover lavorare a stretto contatto con il dottor Fusco. Fatto sta che Rossella dopo il turno, alla fine del suo turno, è passata a casa a cambiarsi e poi tornata in ospedale proprio per iniziare a lavorare con il dottor Fusco. Rossella, l'abbiamo vista, possiamo dire, molto a disagio e impaurita nel trovarsi a lavorare da sola con il dottor Fusco. Rossella che ha cercato di non entrare in confidenza con lui, anche quando lui ha detto magari prendiamo un caffè, a un certo punto ha detto ormai è già da un po' che lavoriamo, forse sarebbe il caso di mangiare qualcosa, magari ordino sushi, le piace lei il sushi, le ordino anche per lei e Rossella però ha, come dire, mandato alla manettente l'invito dicendo guarda io non ho fame, magari insomma mangerò qualcosa più tardi, io preferirei continuare ad andare avanti con il lavoro. Proprio perché Rossella vuole evitare di entrare in confidenza con il dottor Fusco. fatto sta che lui che cosa ha fatto? Si è avvicinato a Rossella e ha cominciato a fargli un massaggio alle spalle dicendole guardi che la tensione non va bene, lavorare troppo si accumulano delle tensioni che non fanno bene quindi bisogna un po' allentarle queste tensioni e lì abbiamo visto una Rossella veramente gelata, pietrificata da quello che le stava capitando. Ovviamente si vede che lei è impaurita e la paura la sta bloccando perché magari un'altra persona avrebbe preso, si sarebbe alzata, si sarebbe uscita dall'ufficio del dottor Fusco magari anche urlando veramente dicendo a tutti quello che stava combinando questo primario. Noi di questo soggetto non sappiamo assolutamente nulla, vedremo se più avanti scopriremo qualcosa del suo passato, magari scopriremo che si è già comportato così in passato con altre colleghe, vedremo insomma se effettivamente è così. fatto sta che Rossella deve assolutamente uscire da queste situazioni prima possibile, quindi la cosa migliore sarebbe veramente magari parlarne con Silvia e Michele in modo da che loro possano aiutarla, consigliarla bene, magari aprirle gli occhi effettivamente, farle capire che questa situazione deve essere interrotta immediatamente perché ovviamente più si va avanti e le cose possono soltanto che peggiorare perché Rossella rischia di entrare in un circolo vizioso dal quale poi è difficile veramente, ancora più difficile uscirne. E azzardiamo un'ipotesi, chi potrebbe scoprire oppure rendersi conto di quello che sta accadendo a Rossella? Potrebbe essere Riccardo che magari appunto capisce quello che sta facendo il dottor Fusco a Rossella e potrebbe essere lui effettivamente a porre fine a questo atteggiamento e a salvare Rossella da questa situazione e di conseguenza chissà, i due potrebbero riavvicinarsi, quindi potremmo rivedere magari Rossella e Riccardo avvicinarsi e chissà, potrebbe scattare nuovamente qualcosa tra di loro. Oppure potrebbe essere Nunzio, magari Rossella si confida con lui, trova il coraggio di parlarne e potrebbe essere Nunzio che scopre tutto quanto, oppure Nunzio che magari un giorno si trova magari che ne so in ospedale per accompagnare Diana e lì vede una situazione ambigua e quindi potrebbe capire quello che sta accadendo, oppure potrebbe essere magari una collega di Rossella ad accorgersi di questa situazione. Insomma ci sono diverse ipotesi ovviamente sul campo, vedremo più avanti cosa accadrà e secondo te che cosa deve fare Rossella per uscire da questa situazione che ripeto più andrà avanti e peggio sarà per lei liberarsene, uscirne, quindi insomma per Rossella ovviamente non si sta mettendo bene la cosa e più tiene nascosta quello che sta accadendo e peggio è. Ti raccomando però scrivi nei commenti che cosa ne pensi tu, quindi che cosa dovrebbe fare Rossella nell'immediato e ti invito anche ad iscriverti al mio canale youtube perché solo così rimarai aggiornatissimo sui prossimi video di approfondimento che usciranno su un post al sole e anche però su tanti altri temi e oltretutto ti raccomando scrivi le tue opinioni perché è sempre bello confrontarsi con altri fan quindi capire anche l'opinione, sentire l'opinione di altri fan che seguono questa soppopera e noi a questo punto ci vediamo assolutamente al più presto con un nuovo contenuto, ciao!